e ciao a tutti ed eccomi in questo nuissimo video di farming simulator 2015 questo è il settimo episodio dove continueremo a trebbiare il maes del scorso ho svolto la trebbia in automatico perchè non sto registrando subito dopo poi devo mettere in automatico questo la semimetricine la metto un po' più tardi e allora abbiamo 150 mila euro no niente qua abbiamo tanto grano allora erba non ci interessa ecco l'abbiamo scelto una queste orvi bene allora questo metto intanto a posto perchè non terrò più erba per un po' di tempo che le pecore ce l'hanno non c'ha senso allora allora pecore 50 produttività 0 la ne abbiamo poco e qua ne abbiamo un po di cibo ok allora perché giù sti due attrezzi no 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 Grazie a tutti. Ok, prendiamo questa attrezza e vediamo quella situazione. Allora, la trebbia, ok. Io intanto porto il teatore là nel bosco, il mio solito bosco proprio. Poi ci saranno altri 150.000 euro per prendere la Scorpion, che è una figata pezzesca, ve lo dico subito. Poi non mi avete scritto ancora per i campi, per i quattro campi, perché non ho caricato ancora il sesto episodio. L'ho registrato ieri, però ancora non l'ho caricato. Lo dovrei caricare, credo, oggi o domani. Qua abbiamo utilizzato l'erba. Abbiamo capito che con l'erba si godanno poco, così che non c'è senso fare meglio fare lene che si godanno moltissimo. Adesso vedremo con la palla quanto si godanno. Poi ho un altro... Un molto buon modo trovato per il trasporto di legna. Non ve lo spoilerò niente. Vi farò vedere quando avremo i soldi e... Non avremo i soldi e lo compremo. Ok, eccoci cosa è arrivato al bosco. Che il pampenino non sarà più un bosco, poi abbiamo già diboscato tutto da questa parte. Allora... Questo albero, mi interessa, è ancora volgato o no? Sì, è volgato ancora. Abbiamo... Abbiamo... E che palle però E che palle 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. e... ci si sente. a tutti. e... 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 ... 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